... Per noi di Comet, prodotti così indispensabili, devono avere prezzi bassi e fissi. Bene, i miei bassi e fissi. Conat, persone, persone, sono sui scarichi, i grandi sport, è ancora più carabili. E' un piano in partito, nuova, è un piano in partito. Signorale, è incredibile. Non stavate da un po' di cento, c'è scontino. E' un po' da un po' alto, è un po' da un po' alto. E' una stagione straordinaria, da vivere con la perfezione dell'HB. Sky Sport, il ramo, lo sport. Come contare il piano e pagare lo piano piano? Per prima cosa usare i cartaplessi, poi aprire l'acqua e il banking, e infine pagare il modo rossa. Con cartaplessi e un credito, quindi oltre, poi decidi gli acquisti, non riposare i ratti. Come contare il seguito. Noi, non riposare i €1, però Г Siamo portati con le famiglie Lede, con le lenti e per la provocazione, perché vi erano scelta? Per il calcio, voglio! E il popo sopio, vi erano scelta da tre anni? Stavate, hai ragione, tutti e tre. Acqua Lede, acqua scelta dalla nazionale italiana di calcio. Ah, normalmente, tutto si prepara dal carriere, quanto il profumo, e l'uomo è a sapore, o 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 l'uomo è a sapore. E la passione italiana, un'idea, 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 un'idea nazionale di calcio. Tu, sei tu che non vavi farti notare, che vavi la somiglietà alla tua bandiera. Tu mi hai portato dentro i tuoi colori, senza manifestare mai la tua passione. Grazie, perché quando sarà il momento, saprai affrontarlo con stile. E per gli eroi come te, che il fiat ha pensato a banda azzurri? gamma barca con 5 volte prima è tua da 8.250 euro con attenzione scegli team ti fattirei con più grande hai 4 giga mille minuti team music e anche lo smartphone in rosso tutto a 15 euro al mese tieni e positiva 1 2 3 3 4 5 6 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 18